Serie A, Lazio-Juventus, domenica 1 maggio 2011, una sfida per l'Europa. Lazio-Juventus è la partita decisiva che potrà rilanciare la squadra bianconera nella corsa verso la zona Champions o tagliarla definitivamente fuori. I bianconeri hanno un solo risultato utile a favore, la vittoria, per un 2 che vale oro in una delle classiche partite da 6. L'ambiente bianconero è carico, l'attaccante matri è così determinato da non aver nessuna intenzione di nascondere le intenzioni bellicose della vecchia signora, che all'Olimpico andrà alla ricerca della vittoria. Appare decisamente più tranquillo invece l'ambiente laziale che è conscio di avere con questo incontro il primo match point per la chiamata Champions. Tre punti contro i bianconeri servirebbero a far fuori una rivale importante e gli uomini di Reia si troverebbero quindi a difendere la quarta posizione dagli attacchi di Roma e Udinese. La Lazio ha poi uno zerato in più nel motore. Questo finale di campionato dell'argentino è quantomeno esemplare e l'attaccante, dotato di grandi numeri in grado di fare la differenza in qualsiasi momento, non vede l'ora di affacciarsi alla vetrina della Champions League e qual'occasione migliore per cominciare a farlo se non questa, ossia segnando magari un gol alla Juventus. L'Olimpico lunedì 2 maggio per questo posticipo serale trasmesso in diretta sui canali Sky si preannuncia strapieno, perché questo è un incontro che effettivamente vale una stagione. Leonello Maffredonia, grande ex di turno, si è già pronunciato in merito, secondo lui vince la Lazio per 2-0, quindi non ci resta che aspettare per vedere se è indovinato o meno.